Allora, ben trovati a tutti voi che eravate qua prima e benvenuti ai nuovi arrivi. Un saluto ancora alle scuole in Italia che ci stanno seguendo con lo streaming. Storia in piazza è una rassegna di storia ma ogni anno è sempre molto multidisciplinare e ci fa piacere che anche parlando di storia ci sia sempre uno spazio importante dedicato alla scienza e alla tecnologia perché scienza e tecnologia contribuiscono in maniera senz'altro determinante, essenziale al processo storico. Oggi abbiamo qui con noi il professor Giorgio Metta che è vice direttore scientifico dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, un'eccellenza di Genova naturalmente ma naturalmente un'eccellenza italiana nel campo della ricerca scientifica. Lui ci parlerà di uomini e macchine, di questo equilibrio possibile o non possibile e soprattutto di un futuro in cui probabilmente le macchine ci saranno di supporto e questo è un pensiero che un tempo sarebbe stato considerato utopico ma in realtà sta diventando realtà, supporto nelle mansioni della vita quotidiana, ci aiuteranno appunto a risolgere alcune mansioni del nostro lavoro quotidiano sostituendo il lavoro degli uomini quando questi non lo possono fare. Quindi diciamo uno spunto di ricerca estremamente interessante, estremamente stimolante. Io la parola la lascio subito al professor Metta, lo ringrazio di essere qui con noi. Le lascio il mio microfono, se no quello glielo accendo. Io mi scuso perché poi fra un po' mi dovrò assentare e lo lascerò qui ma intanto lascio a lui che ha qualcosa da dire. Grazie a tutti per essere qua. Grazie. Bene, intanto ringrazio gli organizzatori per questa opportunità, spero di intrattenervi per circa 50 minuti con una storia che spero possa essere di interesse. Non parlo di storia ma vi parlo di una possibile storia futura, quindi parliamo di cosa potrebbe succedere nei prossimi decenni, quindi qualcosa che sicuramente vivrete in prima persona. Ma intanto di cosa mi occupo? Robotica, lo vedete da questa immagine, in particolare facciamo ricerca in robotica. Questo non vuol dire che vedrete robot esattamente fatti in questo modo, in giro per il mondo, tra poco, però questo rappresenta un po' quello che vuol fare la ricerca, quindi trovare una sfida interessante nella quale cimentarsi per sviluppare delle tecnologie. Poi queste tecnologie possono essere declinate in vari contesti che possono andare da quello industriale a quello forse un po' più interessante, almeno per noi ricercatori, che è la robotica che interagisce con l'uomo, quindi è una robotica che sta a stretto contatto con noi. Vi dico, parliamo di futuro, un pezzettino di storia però l'ho messo, vi racconto due cose sull'intelligenza artificiale che è una componente importante della robotica, o almeno di un certo tipo di robotica. Non immaginate i robot che assemblano le automobili, quell'intelligenza ne hanno poca, ma immaginiamo, come vi dicevo, delle macchine di un tipo nuovo, di una nuova generazione di macchine che probabilmente sarà con noi nel prossimo futuro. Perché uno potrebbe dire, ma non abbiamo abbastanza persone in giro, perché dobbiamo dotarci anche di robot di forma più o meno umanoide? Beh, in realtà, se guardate questo numero, questo è il numero di persone oltre 65 anni nell'anno 2030. Se poi lo proiettate ancora un po' più avanti, nel 2050 avremo una popolazione di un miliardo e mezzo di esseri umani che in teoria saranno in pensione, quindi in teoria non contribuiranno alla produzione. Questo perché sta succedendo? Beh, un po' perché viviamo più a lungo, grazie ai progressi della medicina stiamo arrivando a una prospettiva di vita sempre più lunga e poi perché in realtà facciamo meno figli. Questi sono dei numeri derivati dalle statistiche delle Nazioni Unite che dicono che di fatto per ogni coppia nascono sempre meno bambini. Se parliamo dell'Italia e in particolare poi andiamo a guardare la Liguria, scopriamo che ogni due adulti nascono 1,3 bambini, 1,2 bambini. Chiaramente questo cosa porta? Porta a una diminuzione dei giovani e in proporzione a un incremento importante degli anziani. Questo vorrà dire che in un futuro ancora più prossimo ci potrebbe essere una mancanza di braccia per fare i lavori a cui siamo abituati, lavori che consentono di costruire i nostri smartphone piuttosto che le nostre automobili, costruire tutto quello che ci serve alla fine per vivere comodamente, per vivere bene. Stessa cosa succederà nel campo della salute, mancheranno gli operatori, mancherà proprio la capacità perché non saremmo abbastanza per dare supporto a quella popolazione che vi ho detto prima che effettivamente non sarà in età lavorativa. Questi numeri non c'è niente da capire, guardate solo tutto quello che sta a destra e che è in rosso. Quello che è in rosso vuol dire mancanza effettiva di forza lavoro divisa per paese, continente e così via. Come si traduce questi numeri? Bene, ad esempio in Italia nel 2030 potrebbero mancare un milione di lavoratori. Quindi si dice ma c'è la disoccupazione da una parte e forse no, potrebbe essere che molto presto avremo necessità di braccia per produrre quello che stiamo producendo adesso, per andare avanti con l'economia esattamente com'è in questo momento. Quindi anche volendo mantenere un livello ad oggi, che non è eccezionale però va bene, saranno necessarie più persone perché effettivamente ci sarà probabilmente un altro milione di persone che saranno diventate abbastanza anziane da non essere in età lavorativa. In Germania poi la situazione è drammatica, si pensa che nel 2030 avranno bisogno di 10 milioni di lavoratori in più che non ci sono. Quindi questo per dare un'idea e vedete che è tutto in rosso praticamente, quindi la situazione non è solo l'Italia, la Germania, l'Europa ma andiamo a guardare il Nord America, stessa cosa, andiamo a guardare l'Asia, in Cina è un dramma, la politica del figlio unico ha portato a una distribuzione della popolazione molto sbilanciata, in particolare la Cina avrà proprio il problema di poter continuare a produrre e sapete che molta della produzione al momento avviene effettivamente in Cina. Quindi questo per dire che a volte si pensa che la robotica porterà via dei posti di lavoro ma forse ne avremo bisogno e vi devo anche confessare un'altra cosa, nel 2030 probabilmente i robot non saranno pronti perché la ricerca ha dei limiti e alcuni di questi limiti ve li farò vedere. Per cui ben venga in realtà questo progresso tecnologico perché potrebbe essere molto necessario. Bene, che progresso vorremmo avere? Questo un po' di ispirazione dalla fantascienza non so se avete visto il film L'uomo bicentenario, lo prendo come esempio perché quasi tutti i film di Hollywood, presentano la robotica in una chiave, succede il disastro. Ovviamente è chiaro perché un film lo debba fare, perché è più divertente se succede qualche pasticcio per cui in realtà c'è la lotta tra la macchina e l'uomo, succedono delle cose catastrofiche. Bene, invece qui in questo film c'è un messaggio positivo. Il messaggio positivo secondo me è riassunto da questa immagine. Vedete cosa fa l'essere umano in questa immagine? Porta un peso. Vedete cosa fa il robot? Porta un peso molto più grande. Quindi qual è il messaggio? La robotica è un moltiplicatore delle nostre capacità e questo è esattamente quello che vorremmo fare. Quindi un robot che ci segue e fa qualcosa per noi dandoci una mano quando magari noi non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare perché siamo vecchi oppure perché dobbiamo fare il lavoro equivalente di due persone perché queste due persone non ci sono più per fare il lavoro necessario. Quindi questa è un po' l'idea e mi piaceva rappresentarla con un'immagine di un film. Però vediamo cosa facciamo poi nella realtà. Questo è un esempio tratto da un'intervista a Mark Rybert. Questo signore è l'amministratore delegato di Boston Dynamics. Avrete visto su Youtube i cani robotici che camminano sul ghiaccio, scivolano ma si mantengono in piedi. Avrete visto un po' di questi video. Sicuramente hanno un alto impatto mediatico. Ma questo signore ci dice anche sapete cos'è? Che io vi faccio vedere dei video. Questi video sono un risultato su 20 tentativi. Quindi un risultato è quello che ti faccio vedere nel video dove va tutto bene e poi abbiamo 19 incidenti dove incidenti ci sono cose di questo tipo. Questo è un video molto simpatico perché secondo me si capisce bene cosa succede e dove stanno i limiti. Qui il robot è tutto bene, fa delle cose eccezionali, sta anche in piedi, però peccato che non riesca a fare la cosa giusta e poi sbaglia, non capisce cosa sta succedendo e si rovescia pure a terra. Ecco, questo è quello che succede in robotica. Dove stanno i limiti? Stanno proprio qua in quello che vedete. Io vi farò vedere un sacco di bei video e questi bei video ovviamente funzionano ma tenete sempre a mente che non siamo pronti. Siamo pronti per fare certe cose. Assemblare le automobili? Sì, perfetto. Impacchettare i medicinali, un'altra applicazione della robotica. I medicinali devono essere impacchettati in un ambiente sterile. Meglio che l'uomo non ci vada perché contamina l'ambiente. Ci metto cosa? I robot. Esistono infatti degli impianti completamente sterili, per cui privi di particelle, privi di batteri, privi di qualunque cosa, dove vengono impacchettati i medicinali. Ecco, quelle sono le applicazioni tipiche, ma a parte queste cose altamente automatizzate, questo tipo di robot sono ancora molto difficili da realizzare. Quindi c'è da fare della ricerca. Questo è un po' un cartone animato, un fumetto che racconta quello che vorremmo fare. Bene, ci piacerebbe mettere alla fine a punto uno scenario di questo tipo, dove abbiamo il nostro signore anziano che non è più in età lavorativa, ma che ha bisogno magari di una mano, di una mano in casa, e per farlo gli vorremmo mettere accanto dei robot e quindi questi robot ce li dobbiamo progettare. Ora, siccome non possiamo aspettarci che questo signore sia anche un programmatore provetto, quindi che possa programmare il robot, il robot deve avere un po' di intelligenza perché i suoi compiti li deve svolgere in maniera autonoma. Da qui l'intelligenza artificiale. Ogni volta che vedete queste due lettere, AI sta per artificial intelligence, vuol dire provare a mettere un po' di intelligenza dentro la macchina. E poi cosa dobbiamo sviluppare? Bene, dobbiamo immaginare di sviluppare la capacità di comprendere il parlato, quindi questa è qualcosa che dobbiamo mettere dentro il robot. Dobbiamo dare la capacità al robot di vedere perché l'ambiente circostante lo può percepire solo guardando e capendo poi cosa deve fare. Dobbiamo dargli anche la capacità di interagire con l'essere umano. Quelle tre lettere HRI vogliono dire Human-Robot Interaction. L'interazione con l'uomo è una cosa molto importante perché io vorrei una macchina che capisse quello che gli sto chiedendo, da cui avere una certa empatia verso le mie richieste sarà una cosa importante. E poi sarà ovviamente la capacità di muoversi, controllo automatico è qualcosa che è necessario e la capacità di manipolare l'ambiente e di sentirlo anche col tatto. Questa è una cosa non molto sfruttata in robotica ma è necessaria e devo dirvi che è anche molto difficile. Le vostre mani sono preziosissime. Quello che riuscite a fare voi non c'è macchina in questo momento che lo sappia fare con la stessa flessibilità, con la stessa destrezza con cui siamo in grado di farlo noi come esseri umani. Come lo facciamo? Ebbene ci siamo dotati di un robot, di una piattaforma per poter studiare tutti questi problemi. Ovviamente non essendo ancora un oggetto da, se volete, in produzione, è un oggetto da ricerca. A noi piace pensarlo come la scuderia Ferrari. Cosa fa la scuderia Ferrari? Intanto partecipa alle competizioni di Formula 1 ma una cosa che fa importante è studiare nuove tecnologie per andare sempre più forte. Ebbene per noi questo robot è un po' come la Formula 1, è la piattaforma sulla quale i nostri ricercatori si cimentano per andare sempre più forte in qualche modo. Ovviamente non è che il robot deve andare sempre più veloce, quello che deve fare è essere più intelligente, essere sempre più autonomo nel svolgere alcuni compiti. I compiti ve li ho detti prima, assistere ad un essere umano, prendere un oggetto, portarlo, mettere del cibo in un microonde, riscaldarlo, aiutare una persona a mangiare, esattamente quello che abbiamo visto nel fumetto precedente. Quindi questo è il nostro robot, tra l'altro è alto solo un metro e 0,4, quindi anche abbastanza piccolo e questo consente un utilizzo in un ambiente di ricerca normale, quindi un laboratorio dove diciamo di solito ci sono dei computer, di fianco c'è anche questo robottino che può essere appunto utilizzato per fare diverse cose. Cos'è importante del lavoro che abbiamo fatto? Un paio di cose, vi dicevo delle mani, è un problema non risolto in robotica, quindi il robot deve avere delle mani anche molto sofisticate per poter manipolare gli oggetti, per poter manipolare il mondo che lo circonda. Se volete guardarlo attraverso una sorta di metafora, noi abbiamo degli smartphone, sono smart, sono abbastanza intelligenti, sì, ma non muovono il mondo, non manipolano, non hanno le mani per manipolare. Quindi quello che abbiamo dovuto fare nel robot invece è proprio dargli le mani. Poi l'abbiamo dovuto dare dei sensori, perché senza sensori non percepisce il mondo e quindi non può fare molto. Una cosa importante è che i sensori tipici di uno smartphone sono la telecamera, il microfono, per cui può riconoscere le facce, può riconoscere il parlato, avrete provato a usare il riconoscimento automatico negli smartphone, sapete un po' come funziona, male a volte, però noi abbiamo dovuto fare qualcosa di più. Per esempio, vi dicevo, il senso del tatto è importante, il robot è un attore attivo, si muove nel mondo, tocca e quindi può avere del feedback dal mondo e questo feedback è importante. Ora, questa tecnologia non esiste, esistono i touchscreen in qualche modo, ma non sono la stessa cosa di cui ha bisogno un robot dove deve avere dei sensori magari sulla punta delle dita molto precisi per capire effettivamente se sta prendendo un uovo e non lo deve schiacciare, oppure se sta prendendo un oggetto più rigido, soffice e quindi può fare un po' la forza che vuole. Questa distinzione la deve fare effettivamente usando le sue mani. Per ultima cosa, siccome siamo dei ricercatori e volevamo fare un po' qualcosa, il nostro sogno era fare qualcosa anche per gli altri e gli altri, chi sono? Sono i nostri colleghi ricercatori. Per cui tutto il progetto l'abbiamo fatto secondo una modalità aperta. Avrete sentito parlare di Linux, open source, un movimento che è nato qualche decennio fa ormai, dove chi sviluppa del software invece di tenerlo per sé lo distribuisce in maniera aperta alla comunità. Questa è una cosa che abbiamo fatto che è andata piuttosto bene, tant'è che al momento se andate a vedere le statistiche su uno dei nostri siti dove distribuiamo il software, scopriamo di essere uno dei siti più visitati al mondo nella comunità software. Uno dei siti più visitati probabilmente è Facebook, però nella comunità di sviluppo software il nostro sito sta al 2% dei siti più visitati o con maggior traffico. Questo è interessante perché effettivamente dimostra che c'è stata la creazione di questo tipo di comunità. Quindi a volte essere aperti in realtà costruisce delle opportunità che diversamente non ci sarebbero state. Tant'è che questa stessa comunità di ricercatori robotici ha cominciato a chiederci dei robot e al momento abbiamo per esempio un robot in Giappone, ne abbiamo uno in Corea, ne abbiamo uno in Cina, ne abbiamo tantissimi in Europa, questo per dirvi che partendo dall'Italia, tutto sommato da Genova che non è esattamente il centro del mondo, siamo riusciti ad arrivare con un robot umanoide in Giappone e considerate che il Giappone è la patria della robotica umanoide, è il posto dove negli anni 70-80 si è per la prima volta concepita l'idea di un robot con le sembianze umane, quindi con delle gambe, delle braccia, delle mani e che qualche anno fa dei ricercatori giapponesi siano venuti a chiedere a noi di costruire un robot per loro credo che sia un bel riconoscimento. Vi parlavo prima di tatto, vi ho detto che è una cosa importante per cui un piccolo inserto in questa tecnologia. Gli smartphone li conosciamo tutti, ci sono i touchscreen. Ora, il touchscreen è una tecnologia abbastanza semplice tutto sommato e noi l'abbiamo pensato di adattarla al robot. Come abbiamo fatto? Il touchscreen ha un difetto, è rigido, quindi non abbiamo potuto coprire il robot di touchscreen, non funzionerebbe. Abbiamo dovuto immaginare dei materiali diversi per costruire un touchscreen flessibile, quindi quello di cui è coperto il robot al momento è qualcosa che assomiglia a un touchscreen come risposta, quindi se lo toccate si accende in qualche modo, però è flessibile e copre il robot in maniera abbastanza naturale. Perché è utile questa cosa? Questa è un'immagine che vi fa vedere cosa vuol dire alla fine, tutti quei puntini che vedete sono, ognuno è un sensore tattile, quindi immaginate che il robot è coperto da 4.000 di questi oggetti per cui può effettivamente interagire con noi sentendo quello che noi facciamo, oppure se ci tocca per sbaglio si accorge di averci toccato. Cosa vuol dire questo? Beh, per esempio che se noi tocchiamo il robot, il robot è gentile nei nostri confronti e cede al contatto. In questo video si vede esattamente come io schiacciando in un punto con un dito, per sfortuna dal video non si capisce quanta forza si fa, ma potete capirlo dal fatto che un dito è sufficiente a chiedere al robot di spostarsi da una certa posizione. E questo è importante perché se deve interagire con noi vorrei evitare un robot rigido che magari mi faccia del male. Immaginate che questo magari sia un robot che sta di fianco a noi in industria, in una catena di produzione, fa qualcosa per noi, ma se io per sbaglio metto il mio braccio, la mia mano nella sua traiettoria, lui la sente e quindi evita potenziali rischi. La stessa tecnologia fa qualcosa di più anche. In questo caso vedete il robot che cerca di fare qualcosa di difficile, stare in piedi e se viene anche toccato dal ricercatore continua a mantenere l'equilibrio. Ora, il problema di stare in equilibrio non è facile neanche per un essere umano, ma in più se qualcuno ti disturba è molto facile perdere questo equilibrio. Quindi la capacità in realtà di sentire il contatto è utile in altri contesti, in questo caso per salvare il robot che non si rovescia il suolo. Considerate che il robot è costoso se cade, vuol dire che spendiamo dei soldi e poi magari non lo abbiamo a disposizione per fare le nostre ricerche. La stessa tecnologia, ancora una volta, declinata in maniera leggermente diversa, qui cambiano un pochino gli algoritmi, però consente al robot di camminare. Qui ovviamente dov'è il contatto? Il contatto è col pavimento, quindi il robot sentendo il contatto col pavimento è in grado di camminare, di muoversi e di reagire a degli sbilanciamenti che sono naturali quando si cammina. Qui in questo caso il robot decide dove andare non da solo, c'è uno dei nostri ricercatori che gli dice vai di qui, vai a destra, vai a sinistra, prendi un oggetto e così via. Bene, e questo vi dà un'idea di dove va, se volete, la parte meno intelligente del robot. Devo dirvi che in realtà muoversi richiede una certa intelligenza, quindi quello che avete visto non è privo di intelligenza artificiale, ma buttiamoci un po' più dentro quello che è invece l'argomento proprio di come costruire un'intelligenza. La cosa tipica è il riconoscimento di oggetti, quindi il robot va in giro, vede delle cose, io gli ho chiesto portami un caffè, deve riconoscere un caffè e vorrei che portasse il caffè, non l'aranciata, per capirci. Allora, come lo facciamo? Bene, esistono delle tecniche, piccola storia su queste tecniche. L'intelligenza artificiale è nata nel 1956, la prima volta che si è usata questa parola. C'è stata una famosa riunione dei guru dell'epoca dove hanno deciso di usare questa parola proprio, intelligenza artificiale. Quanto fosse corretto l'utilizzo, poi va bene, possiamo discuterne, però c'è stata una prima fase. Questa prima fase dell'intelligenza artificiale è quella che forse trovate nei programmi che giocano a scacchi. un mondo dove il computer deve dare delle risposte, ma il mondo è ben delimitato, le regole sono chiare. Quanto ci vuole a scrivere dentro un computer le regole degli scacchi? Non tantissimo. Quanto ci vuole a giocare meno, un po' di più. Però le regole sono chiare, le può scrivere a mano un essere umano, un programmatore, quindi non è necessario una grande intelligenza da parte delle macchine per capire cosa deve fare. Poi c'è stata un'altra fase che si chiama quella dell'apprendimento statistico. Questa è iniziata circa negli anni 80. E cosa vuol dire apprendimento statistico? Raccolgo un sacco di dati e le regole cerco di impararle da solo. Da solo non io, essere umano, da solo la macchina. Quindi prendo tanti dati, tante partite di scacchi, se vogliamo rimanere nel mondo degli scacchi, e cerco di dedurre da questi dati quali sono le regole degli scacchi. Ora, il problema è un pochino più difficile, ma è più facile per l'essere umano. Non devo fare niente, basta registrare tante partite di scacchi e da lì ho i miei dati. Questo approccio è andato bene, benino direi. Tutto quello che trovate nei vostri smartphone è realizzato con questo approccio. Quando voi puntate la telecamera e il sistema vi riconosce le facce delle persone, magari le mette a fuoco in automatico, questo è quel tipo di intelligenza artificiale. Quindi un'intelligenza artificiale dove qualcuno ha raccolto tante facce di persone e ha allenato un algoritmo a riconoscere le facce delle persone. Ora, è intelligenza questa parte qui, ma ha dei limiti. Cosa manca? Manca della flessibilità, della capacità dell'essere umano di imparare a riconoscere oggi una faccia, ma domani un gatto, dopo domani un altro oggetto in maniera completamente automatica. Voi tutti quanti lo fate in maniera naturale, senza neanche accorgervene, quando eravate magari dei bambini per la prima volta avete visto un gatto, avete visto una volta, due volte, dopodiché vi è stato detto questo è un gatto e da quel momento in poi lo riconoscete in qualunque situazione. Ora, l'intelligenza delle macchine purtroppo non funziona così. Ogni volta che devo imparare qualcosa di nuovo c'è un essere umano che si siede lì, raccoglie i dati, li guarda, guarda che siano a posto, magari li deve dato per dato identificare, deve dire in questa immagine c'è la tazzina del caffè, in questa c'è l'aranciata, in questa c'è la Coca Cola, in quest'altra, e fare questa distinzione. A quel punto la macchina forse riuscirà a riconoscere, a distinguere questi diversi oggetti. Ora, come passare da questo tipo di intelligenza molto stretta su un singolo compito a un'intelligenza più generale come quella dell'essere umano? Non lo sappiamo. Infatti lì non c'è una data, perché non abbiamo proprio idea di come fare. Gli algoritmi che abbiamo non sono sufficienti, c'è tanta ricerca nel mondo, ma non sappiamo esattamente cos'è la differenza o quale sia la differenza tra un'intelligenza artificiale e la nostra intelligenza d'essere umani. Quindi c'è spazio. Alcuni colleghi che lavorano nel campo e si dicono dei tecnoottimisti, dicono ma forse in centinaio d'anni riusciremo a capire qualcosa. Quindi giusto per dare un'idea della difficoltà del problema. Bene, vi ho detto degli scacchi, vi ho detto delle ultime applicazioni, quelle che troviamo ormai tutti i giorni negli smartphone, ma anche le automobili, riconoscimento dei segnali stradali, non so se avete provato o avete visto una macchina delle quelle un po' più nuove, riconosce il segnale stradale, anche quelli dei lavori in corso e vi dice istante per istante qual è il limite di velocità e vi dà una segnalazione. Oppure avete dei sistemi che frenano in automatico, oppure avete dei sistemi che identificano i pedoni e di nuovo se c'è un potenziale pericolo rallentano in automatico. Ecco, queste sono delle possibilità date dall'intelligenza artificiale di oggi. Quella del futuro non lo sappiamo. Ora, che cosa c'è di nuovo in questa intelligenza artificiale o qual è la caratteristica importante? Slide, scusate, non da capire, non importa, vi dico due cose. Da una parte c'è grosse quantità di dati. Quando vi ho detto impariamo a riconoscere le facce, quante facce ho bisogno come esempi per imparare a riconoscerle? Questo è un tipico database che è per il riconoscimento di oggetti. Sapete quanti immagini ha dentro? 15 milioni. Ora, dovete elaborare 15 milioni di immagini per consentire a una macchina di riconoscere qualcosa. Chiaramente c'è qualcosa che non torna. Nessun essere umano ha bisogno di vedere 15 milioni di altri esseri umani prima di riconoscerli. Chiaramente no. Qual è la conseguenza di dover elaborare così tanti dati? Che ho bisogno di grosse capacità di calcolo. Avrete sentito parlare dei vari Google, Facebook, Amazon. Perché sono in questo momento quelli che la fanno un po' da padrone in questo campo dell'intelligenza artificiale? Perché hanno i soldi, le macchine, i computer necessari per allenare gli algoritmi. Quindi questo messaggio importante di quello che dovremmo fare nel prossimo futuro, se vogliamo che l'intelligenza artificiale sia per tutti e non solo per chi ha questa capacità di calcolo, bisognerà pensare come ridistribuire o come cambiare gli algoritmi. Quindi messaggio, se volete, più legato al cosa vogliamo fare delle tecnologie e come la società dovrebbe gestire queste tecnologie. Questo signore, per chi non lo conoscesse, si chiama Ronnie Brooks e il signore che vi ha portato in casa è il Roomba, non so se l'aspirapolvere. È la persona che ha fondato iRobot, che è l'azienda che produce Roomba. E questo è uno di quelli che dice di essere un tecnoottimista, ma dice non preoccupatevi dell'intelligenza artificiale generale, quella simile a quella dell'essere umano, perché tanto ci vorranno cento anni. È un messaggio interessante perché secondo me dà un'idea di dove siamo con la tecnologia. E questi sono un po' di esempi, secondo me, simpatici che vi fanno capire come le cose non funzionano. Quello che vedete sotto è la trascrizione di quello che una macchina, un certo algoritmo, dice di vedere in quell'immagine. Dice che c'è un giovane ragazzo che tiene in mano una mazza da baseball. Ora, il ragazzo è giovane, ma non così giovane, lo chiamerei un bambino forse, non un giovane ragazzo, sicuramente non c'è una mazza da baseball. Questo per dare un'idea di come la macchina fallisca in certi contesti e dove stanno anche, di nuovo, i limiti di cui vi ho parlato. Questo è un altro esempio, altro algoritmo. Quelle che vedete sono immagini di animali. No, ovviamente no, per nessun essere umano c'è un animale, ma a detta della macchina in alto c'è un armadillo in una delle immagini. Ora, a me sembra rumore, evidentemente per alcuni degli algoritmi col 99,6% di certezza, quello è un armadillo. Ora, di nuovo, potenziale limite dell'intelligenza artificiale. Ora, non vorrei dirvi che ci sono solo limiti, il riconoscimento dei segnali stradali funziona, il vostro smartphone funziona, quindi ci sono delle possibilità, però dobbiamo anche essere coscienti che non abbiamo la certezza che queste cose funzionino. Quindi se io devo garantire che l'automobile riconosca sempre che c'è un passante debba frenare in una certa situazione, in questo momento non sono in grado di garantirlo. E infatti ci sono stati dei casi di incidenti, ora, poi possiamo discutere se questi incidenti sono di più o di meno di quelli causati dagli esseri umani, di solito gli esseri umani fanno peggio, però è importante capire i limiti della tecnologia. Bene, cosa vuol dire questo calato nel contesto della robotica di cui vi ho parlato prima? Beh, che vorremmo dare un'intelligenza al robot, per esempio, per riconoscere gli oggetti. Questo è il tipico scenario. Io ho uno dei nostri ricercatori che fa vedere un oggetto al robot, dice un nome, lo spruzzino in questo caso, e il robot deve guardare l'oggetto e imparare che da quel momento in poi quello è uno spruzzino. Quindi c'è un compito abbastanza importante. Dove sta la difficoltà quando parliamo di robot? Beh, sta qui sulla destra. Quello è quello che vede il robot, vede un oggetto che può essere orientato in qualunque modo, può essere di dimensione diversa, perché può essere piccolo, grande, c'è uno sfondo che può essere qualunque, ma anche può confondere il riconoscimento, e non possiamo farci molto. Il robot vede le immagini così e io non posso stare lì a guardarle una per una e dire questa è buona, questa non va bene, e così via. Mentre sulla sinistra vedete il tipico database di immagini che scaricate da internet, dove vedete tante cose molto diverse, ma tipicamente le immagini sono prese per bene, perché se qualcuno ha fatto la fatica di raccogliere il database ha anche detto, questi sono dei bicchieri, tutto quel set di immagini sono tutti bicchieri. Quindi c'è un po' più di certezza di quello che è stato acquisito, mentre quando il robot lo fa da solo questa certezza non l'abbiamo. Bene, cosa abbiamo fatto? Bene, abbiamo lavorato un pochino per fare in modo che il robot riconoscesse queste immagini, bicchieri, tazze, giocattoli, cose qualunque che possono essere poi un giorno interessanti per un robot che viene messo in una casa, deve riconoscere gli oggetti e fare delle azioni con questi oggetti. Ora, cosa volevo dirvi con questa slide? Complicata, grafici, cose strane, non importa. C'è un numero lì sulla sinistra, 96%. Ecco, 96% è quello che su per giù riusciamo a fare quando la macchina deve riconoscere una cinquantina di oggetti diversi. Quindi se io gli presento 50 cose, col 96% di probabilità riconoscerà queste cose correttamente. Cosa vuol dire? Che 4 volte su 100 io chiedo il caffè e torna indietro veramente l'aranciata, perché ha riconosciuto male l'oggetto. Questo è un po' il messaggio di questo tipo di lavoro. Dal vero cosa succede? Succede così che io faccio vedere un oggetto, il robot lo riconosce, mette un rettangolino intorno all'oggetto e sulla destra si vede che gli dà un'etichetta, gli dà un nome. Questo qui è testimone al fatto che l'oggetto sia stato effettivamente riconosciuto in maniera corretta. C'è un'altra cosa importante. Vedete che funziona tutto in tempo reale. Io sto facendo vedere una cosa al robot e il robot riconosce. Questa è un'altra cosa importante in robotica. Non posso aspettare più di 30 millesimi di secondo per decidere che oggetto ho davanti, perché mi sto muovendo. Quello che succede è che probabilmente sono andato a sbattere contro il tavolo che stavo cercando di riconoscere in quel lasso di tempo. Quindi è importante anche pensare a algoritmi che non facciano come il Google Image, che io chiedo una cosa e ci mette un secondo. Un secondo mi sembra velocissimo se devo fare una ricerca, ma non è velocissimo quando io mi sto muovendo nell'ambiente. Quindi questo è un altro, se volete, aspetto che differenzia un po' l'intelligenza artificiale che deve funzionare dentro una macchina da quella che funziona a distanza, se volete, in cloud, come riconoscimento di immagini generico che troviamo su internet. Cosa possiamo fare in più? In quest'altro video vedete un esempio dove il ricercatore non si vede in questo caso, ma chiede al robot di riconoscere un oggetto, una saponetta, una spugnetta, quello che è, e di indicarlo. E qui si vede un po' quello che fa il robot. lo indica correttamente. Giusto per dire che la macchina alla fine vede, vede abbastanza bene e può fare qualcosa relativamente a quello che vede. Qui gli è stato chiesto dove è il cubo e lui ha indicato correttamente il cubo. Poi cosa c'è da fare? Ora, indicare va bene, oltre a riconoscere vorrei anche poter prendere le cose. Quindi questo qui è un altro esempio dove si vede un pochino di più di quello dell'indicare. L'oggetto ha anche una forma, anche una sua fisicità, c'è una geometria e per prenderlo devo capire questa geometria. Qui si vede come il robot fa esattamente questa cosa. La fa completamente in automatico e alla fine prende l'oggetto. C'è un'altra cosa però, una volta che ho preso l'oggetto, vi ho detto prima che sarebbe bene sentire cosa ho preso, perché devo decidere quanta forza fare. Questo che si vede qui è un'indicazione del fatto che il robot ha dei sensori tattili anche sulla punta delle dita e che li può usare effettivamente dopo che ha toccato l'oggetto. Questa slide, di nuovo, grafici e altre cose che di per sé non ci dicono molto, se non che l'ultima barra sulla destra ci fa vedere qualcosa che raggiunge quasi il 100%. Questa qui è interessante perché il robot, vi dicevo, si muove nel mondo, tocca, ha delle informazioni aggiuntive. Quali sono queste informazioni aggiuntive alla vista? Sono il tatto. Ora se io combino vista e tatto posso riconoscere le cose col 100% di accuratezza, o quasi il 100%. Perché? Perché sto mischiando delle informazioni, metto delle informazioni aggiuntive e quindi è più facile il riconoscimento. Immaginate quando voi andate a cercare nella vostra tasca, non so, le chiavi, ok? Voi sentite addirittura qual è la chiave giusta per aprire la porta di casa e sapete se invece avete preso le chiavi della macchina. Questo lo fate completamente col tatto. Quindi è chiaro che c'è dell'informazione aggiuntiva ed è chiaro che questa informazione aggiuntiva può anche aiutare una macchina a riconoscere le cose in maniera più accurata. Questo è un po' quello che troviamo nell'intelligenza artificiale. Qui vediamo qualche altra possibilità, ad esempio se io mi avvicino al robot posso anche prevedere che dopo un po' lo andrò a toccare. Questo robot lo può fare e tentare di stare lontano. Qui ad esempio il robot tenta di stare lontano da una pericolosissima palla rossa e vedete cosa fa? Di fatto guarda, capisce che c'è una potenziale interazione, se io gli dico stai lontano da queste potenziali interazioni, lui ci sta il più possibile. Poi se io lo tocco comunque il robot è cedevole, come abbiamo visto prima, e quindi nulla di grave succede e il robot può continuare a interagire con l'essere umano. Nello stesso modo, con un po' di intelligenza aggiuntiva, vedete in un'immagine piccola, più o meno in mezzo al video, c'è un riconoscimento dello scheletro della persona, della posizione della persona. Questa posizione può essere utilizzata per fare in modo che il robot non intercetti le mie traiettorie. immaginate questi software, li avrete visti, sono simili a quelli del Kinect, delle console di videogiochi, diciamo, sono cose abbastanza standard, sono però realizzate con algoritmi di intelligenza artificiale. E quello che succede in questo esempio è che effettivamente il robot sta facendo i fatti suoi, muove la mano, io metto la mia mano in mezzo e lui si ferma. Proiettatelo in una possibile applicazione futura. Possibile applicazione futura, questo è un lavoro che stiamo facendo con un'azienda italiana che costruisce le acciaierie. Le acciaierie non è un bel posto dove lavorare, immaginate di poter mandare un robot invece di dover tenere degli esseri umani. Sono ambienti dove temperature alte, potenziali pericoli, ci sono grosse masse in movimento che possono causare danno. E qui l'idea non è di mandare ovviamente il nostro piccolo robot umanoide che non è adatto per un ambiente industriale, ma è invece quella di portare dei robot industriali con le stesse tecnologie di controllo che noi abbiamo sviluppato per il robot umanoide. E di qui vi viene un po' l'idea che la ricerca in realtà poi si avvicina all'applicazione, si avvicina anche abbastanza in fretta. Questo è un lavoro che ad aprile o maggio di quest'anno porteremo in una prima installazione e cominceremo a fare la sperimentazione veramente in acciaieria. Quindi stiamo uscendo dal laboratorio per andare verso un applicativo. Questa è un'altra applicazione, altra azienda italiana che sviluppa gli organi di presa per i sistemi di automazione, quindi sono delle pinze di fatto automatiche che si chiudono sugli oggetti. Con loro stiamo in qualche modo mettendo i nostri sessori tattili per fare in modo che la pinza riconosca l'oggetto che deve prendere, ma anche che riconosca che se ho messo un dito è bene che non schiacci perché quello è il mio dito. Questo è un altro esempio di come una tecnologia sviluppata, perché noi avevamo un interesse di ricerca, diventi poi in realtà un'applicazione. E anche questo è un lavoro che direi abbiamo finito la parte più, se volete, di ricerca, più sperimentale e prossimamente costruiremo la prima pinza, veramente una sorta di preprodotto, che potrebbe andare in un impianto di, non so, imbottigliamento, come si vede in questa immagine. Cosa, diciamo, tutto questo è bellissimo, o almeno per me lo è, perché è il lavoro che faccio tutti i giorni, però cosa succede, o qual è uno dei potenziali problemi, è che questi robot costano un sacco di soldi. Questo è il prezzo dell'umanoide. E sfortunatamente è un tantino costoso. È un po' la Ferrari, vi ho parlato di Ferrari di Formula 1, ok, ha il prezzo di una Formula 1. La Formula 1 è un po' più cara, ma diciamo che è costoso abbastanza da non essere un prodotto. Quindi quello che abbiamo fatto è pensare di costruire qualcosa che potesse effettivamente diventare un robot di servizio, un robot che mettiamo per assistere l'essere umano. L'abbiamo fatto con un approccio un po' particolare. Abbiamo iniziato a pensare al design, cosa che di solito si fa alla fine. Qui abbiamo deciso che dall'inizio dovesse essere un robot empatico, un robot che trasmettesse un certo messaggio all'utilizzatore finale e poi l'abbiamo anche costruito. Ora, questo è Photoshop, non fidatevi, vi faccio poi vedere i video per credere che effettivamente esiste e fa qualcosa. Ora, cambiando la tecnologia si può cambiare anche il prezzo. Questo è un esempio di quello che costa oggi comprare il materiale che serve per fare questo robot. Chiaramente i numeri cambiano, dovete anche considerare che noi siamo un istituto di ricerca, quindi non stiamo facendo produzione, poi quando gli oggetti dovessero mai andare in produzione ovviamente i costi scenderebbero ancora. La nostra idea è che questo sia o diventi l'elettrodomestico del futuro. Quindi con un prezzo che sia vicino a quello degli elettrodomestici tradizionali. La tecnologia è simile, abbiamo anche proprio cambiato il modo in cui lo facciamo. Lo facciamo con la plastica, facciamo con la lamiera piegata, quindi non è un oggetto che costa tanto, ma ha delle funzionalità importanti di tipo robotico. Ora, la mia lavastoviglia è quasi robotica, nel senso che parla con lo smartphone, adesso fa delle cose, la puoi programmare, funzionalità che non usa quasi nessuno, però ci sono volendo. Quindi per dirvi che in realtà le tecnologie poi esistono e si potrebbero effettivamente ingegnerizzare in maniera tale da arrivare al mercato. E queste sono un po' di cose, delle cose che vi ho detto prima. Questo è un esperimento un po' più completo di quello che abbiamo visto prima, dove si insegna al robot a riconoscere un oggetto. Non c'è l'audio, ma la persona sta parlando con il robot, ci sono i sottotitoli, gli fa vedere un oggetto, in questo caso l'astuccio, e poi gliene fa vedere tanti, qui il video è un po' accelerato perché ragazzi è veramente noioso, però si capisce un pochino come funzionano le cose. E ora immaginate che noi domani vi diamo questo robot in casa, voi aprite la scatola e dovete addestrarlo a riconoscere quello che avete in casa vostra. Perché? Perché i bicchieri che avete voi non sono uguali a quelli che ho io, magari li abbiamo comprati in posti diversi, hanno forme diverse, ecco queste forme bisogna spiegargliele e questo è il modo in cui si fa. E qui vedete che poi le cose funzionano abbastanza bene. E tutto funziona in maniera piuttosto naturale. Io parlo con il robot, faccio vedere le cose, non ho bisogno di programmare nulla e le cose succedono. Questo sarà un po', come dire, il compito dei nuovi costruttori di app del futuro. Insegnare, non so, al robot a fare gli spaghetti. Ok? Un compito molto complicato, ma una volta che l'ho fatto, io poi lo posso dare a un altro robot, un altro robot ancora, e costruire una conoscenza che faccia diventare effettivamente il robot molto più utile. Questo è un altro video, diciamo, simile, tecnologia, leggermente diversa, dove si vede che anche se faccio vedere due cose contemporaneamente, lui le riconosce, le distingue, e se gli chiedo dov'è, non so, il fiore o dov'è lo spruzzino, lui guarda l'oggetto corretto. Niente di diverso da quello di prima, un po' di tecnologia diversa sotto. Applicazioni possibili di questo tipo di robotica? Abbiamo iniziato a pensarci. Abbiamo un progetto con IBM che ci ha chiesto di cominciare a pensare come questo robot possa essere collocato, per esempio, in un contesto ospedaliero, per fare da assistente. Ovviamente il robot non farà tantissimo, non solleverà i pazienti, non lo può fare, non farà cose complicatissime, ma comincierà a dare una mano. Servirà da interfaccia, servirà per fare micrologistica, portare le cose, qui lo vediamo portare, non so, dei medicinali. Sono tutte operazioni che hanno un costo elevato per un'organizzazione ospedaliera perché fanno perdere del tempo, di fatto, e possono essere automatizzate abbastanza bene. Sono tutto sommato nel dominio di quelle cose che forse riusciremo a costruire presto. Un'altra cosa forse un po' più interessante è questo un lavoro che stiamo facendo con la fondazione Don Gnocchi, un ospedale a Milano, dove stiamo costruendo un robot che osserva i pazienti che fanno fisioterapia. e monitora le performance e fa una sorta di, non è una cartella clinica, ma disegna un percorso e in automatico dice al fisioterapista se il paziente 1 ha fatto l'esercizio come si deve, se il paziente 2 l'ha fatto meglio o peggio, se sta migliorando, come sta andando. e questo perché serve? Perché loro ci hanno detto ma ragazzi, noi abbiamo un fisioterapista e 50 pazienti all'ora, non ce la facciamo. Se avessimo una macchina che almeno ci fa il monitoraggio, io posso avere il fisioterapista che comunque dà un'occhiata alla situazione nel suo complesso e se vede qualcosa di particolare interviene, ma allo stesso tempo io posso avere i pazienti che fanno effettivamente fisioterapia e questa fisioterapia post-traumatica è importante perché è quella che consente poi una riabilitazione veloce, efficace e così via. Quindi questa è un'altra potenziale applicazione. Ovviamente ce ne sono tante, immaginate la sicurezza, questo è un esempio di sicurezza notturna in un centro commerciale, questo è Photoshop, non l'abbiamo ancora fatto. Immaginate però anche che dopo il robot possa darvi i consigli degli acquisti. Ora, forse no, però la cosa interessante è che se io inizio a fare sicurezza, poi anche di giorno posso farla e questo è un problema che c'è stato posto in realtà da alcuni operatori di centri commerciali che hanno detto abbiamo un problema, gli esseri umani non sono particolarmente efficaci a fare questo lavoro, tipicamente dormono. quello che ci hanno detto è esattamente questo, ora forse non si può dire però la realtà è questa. Hanno uno schermo con 280 telecamere e questi poverini devono stare lì e guardare queste 280 immagini e se succede qualcosa tentare di capire dove effettivamente sta succedendo qualcosa. E chiaramente è qualcosa che io posso fare è utile perché? Perché a posteriori per fini assicurativi posso determinare effettivamente cosa è successo. Però per prevenire un potenziale problema non è utile. Ma invece immaginate un robot che va in giro e ha telecamere, sensori di fumo, sensori di qualunque tipo, vede un bagaglio abbandonato, vede dei liquidi dove non dovrebbero esserci, può chiaramente dare un allarme preventivo prima che sia successo qualcosa. Questa è un po' l'idea che ci è stata presentata. e vi devo dire che non ce la siamo inventata noi. Questa qui è stata un'idea degli operatori che al momento lavorano in questo ambito. Poi vi dicevo l'assistenza, chissà, è un'applicazione più complicata, non la vedo succedere domani, però chiaramente con un po' di fantasia possiamo immaginare che nel tempo ci si possa anche arrivare. Chissà che un giorno non si è in casa, avremo tutti ovviamente case di questo tipo, questo Photoshop di nuovo. e chissà che non possa diventare effettivamente anche un assistente all'educazione. Questa è una cosa che di nuovo sta succedendo tantissimo in Asia dove la robotica viene utilizzata come scusa per insegnare delle cose che non sono necessariamente robotica di per sé, possono essere cose diverse, ma dove il robot fa una parte di interazione che potrebbe essere una cosa interessante. Ora, questa immagine è un Photoshop ma è reale nel seguente senso. Non potevamo prendere un'immagine vera, però l'ultima volta che siamo andati a una fiera con robot c'erano un sacco di ragazzini che facevano esattamente questo, abbracciavano il robot. Questo ci ha dato l'idea che effettivamente il nuovo elettrodomestico potrebbe essere accettato anche piuttosto bene dalle generazioni future. Video finale, un po' l'applicazione che vi ho descritto tradotta in realtà. Qui vediamo il robot che si muove in un ambiente domestico, va a prendere un oggetto, in questo caso un bicchiere e lo porta alla persona che in questo caso è una delle nostre ricercatrici, non ha nessun problema di movimento, però se immaginate una persona che magari ha difficoltà a muoversi anche per la casa questo potrebbe già essere un'applicazione realizzabile e utile. Che dire, questo è dove siamo? Il futuro, vi ho parlato di intelligenza artificiale, chiaramente importante, un tema che forse non vi aspettereste ma potrebbe essere molto interessante per la robotica e il discorso sui materiali che utilizziamo per fare i robot. Intanto di base vorrei magari materiali soffici, materiali che non portino dei pericoli per cui io ci devo interagire fisicamente, evitiamo gli spigoli ma magari facciamo anche il robot completamente sofficio, questa è una possibilità. Poi ci sono idee più da ingegnere, nel senso che ci sono possibilità ad esempio di fare tutti i fili del robot stampati direttamente dentro la struttura del robot. Questo è importante perché i fili cosa succede? Il robot si muove, i fili si rompono e quindi l'affidabilità della macchina è bassa. Se io posso stamparli c'è poco che si può rompere in quel caso e quindi otteniamo un'affidabilità maggiore. E poi ci sono anche questioni di costi, un materiale plastico lo posso stampare quindi costa meno, ne posso fare milioni di copie senza avere dei costi elevati. Il materiale metallico è un po' più complicato. Infine i materiali potrebbero anche essere biodegradabili perché no? Se io sogno o mi immagino un mondo dove ci saranno tanti di questi robot non vorrei avere degli scarti come quelli che abbiamo adesso dalla nostra elettronica dai nostri smartphone che hanno diciamo che inquinano che hanno delle caratteristiche di proprio di inquinamento intrinseco nei materiali che uso che sono un problema per la sostenibilità qui invece potrei immaginare cose diverse che altro altra cosa importante sarà la parte energetica non ve ne ho parlato un po' perché è una ricerca che non facciamo ma considerate che le batterie che ci sono adesso dentro i robot durano due tre ore poi il robot si scarica sono molto peggio dei nostri smartphone non arrivano neanche a fine giornata e questo chiaramente è un limite perché vorrei avere una macchina che almeno copre un turno di lavoro normale quindi le classiche otto ore ultima cosa la connettività se voi immaginate questi robot isolati potrebbero essere chiaramente qualcosa di interessante ma immaginate quale potrebbe essere l'applicazione se i robot possono anche connettersi a un cloud a una intelligenza più globale allora veramente io insegno il robot a cucinare gli spaghetti a casa mia il mio vicino usa quello che io ho insegnato al mio robot nel suo robot quindi immaginate questo potenziale scambio di informazioni a livello globale un po' come internet potremmo farlo anche a questo punto con la robotica vi lascio con intanto i ringraziamenti per il mio gruppo di ricerca perché non potrei essere qua altrimenti è un'ultima un'ultima storiella visto che vi ho parlato prima di fantascienza velocissima allora L'uomo bicentenario era un film tratto da una storia di Isaac Asimov che è uno scrittore di qualche anno fa lui ha scritto un altro libro che si chiamava Io robot era un libro di storie corte e c'era una storia dalla quale io poi ho tratto questo passaggio il passaggio dice la seguente cosa c'è una conversazione ci sono due persone la prima dice chiede alla seconda quanti anni hai la seconda risponde 32 la prima ribatte ma allora non hai mai conosciuto il mondo senza i robot e questa è secondo me una potenziale visione per un futuro dove effettivamente ci sarà una generazione che avrà sempre visto i robot un po' come non so mio figlio ha 14 anni e ha sempre conosciuto gli smartphone internet per lui la musica non ha mai avuto un supporto si materializza nel suo smartphone ok ora quindi ha un concetto della tecnologia per la quale è sempre esistita non c'è mai stato un mondo senza queste tecnologie mentre io le ho viste arrivare alcune di queste internet non c'era poi un bel giorno è arrivata internet ecco la robotica io la vedo un po' in questi termini ci sarà un bel giorno dove magari arriverà effettivamente la robotica grazie ringraziamo il professor Metta per questa lezione veramente molto appassionante a me spiace che me ne sono dovuta andare a un certo punto ma malincuore devo dire bene allora un piccolo stacco per chi si ferma per il prossimo appuntamento aspettiamo il professor Vanoli alle 12 meno un quarto cercate di essere puntuali quando rientrate grazie ancora professor Metta perché davvero grazie è proprio dispiace di andare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti